ok non facciamo che già fate tutti la zucca perché ancora non siamo in autunno ci sono ancora tantissimi peperoni tante giornate di sole estive quindi peperoni ripieni veloci in padella facilissimi davvero non dovete neanche accendere il forno con all'interno pan grattato parmigiano pecorino cacchi di prezzemolo basilico un pochino di pomodoro e ovviamente l'extravergine di riva sono deliziosi anche freddi ricetta sul blog e anche qua nel video ciao